Catto Edilizia che ha dato un supporto fondamentale per tutto quello che riguardava il trasporto dei materiali qui utilizzati. Poi bisogna anche ringraziare il Comune di Biella, in particolare un grazie all'assessorato al turismo che grazie al protocollo d'intesa ha aiutato questa manifestazione. Il protocollo d'intesa dal punto di vista turistico che coinvolge la Fondazione, la Provincia e la Camera di Commercio di Biella. Proseguo ancora un attimo o mi fermo? Ti rubo la scena perché è arrivata alla penultima zona, adesso in azione c'è Laszlo Egedus che ha già lasciato 12 penalità nel round 2. Partito un applauso per lui, è vero, in questa zona 5 ma quello che ti volevo dire, lo lasciamo finire perché merita anche lui un applauso, è finito, è vero. Grazie. Grazie.